Il cammino di fede Il cammino di fede Accanto a questa lodevole esperienza che già insiste da qualche anno nella nostra parrocchia e vorremmo in qualche modo raggiungere le famiglie che sono in questo territorio per poter dare loro un accompagnamento far capire loro che siamo accanto a loro e che desideriamo che ognuna di esse possa trovare la bellezza di vivere la famiglia cristiana. Grazie 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 Grazie